L'Arca celebra un decennio di importanti esposizioni ospitando un evento singolare, una mostra collettiva di artisti di respiro internazionale. Io amo te, accoglie lavori di artisti che utilizzano differenti mezzi espressivi. Con il curatore Umberto Palestini abbiamo raccontato una delle opere esposte. Global Residence, sono dei materassi disegnati da Giuseppe Stampone. Sono materassi che ha, volutamente, cioè nel senso dei materassi che si possono trovare dappertutto, non delle cose particolarmente raffinate. Per raccontare che cosa? Per raccontare certamente il tema dell'emigrazione, il dramma dell'emigrazione, ma sotto sotto c'è anche un significato nascosto che noi spieghiamo in delle didascalie commentate. La mostra è tutta piena di didascalie commentate per cercare in qualche modo di dare anche dei piccoli suggerimenti per raccontare delle storie. In questo caso c'era una legge dello Stato italiano che diceva che uno poteva fallire e quindi gli veniva sequestrato tutto, l'unica cosa che non potevano portare via dalla casa era il materasso e lo dovevano lasciare per forza. Quindi il fallimento non poteva essere totale, ma qualcosa rimaneva, rimaneva il materasso. Oggi inauguriamo questa straordinaria mostra collettiva pensata, ideata, curata da Umberto Palestini a cui va il nostro grande ringraziamento. Una collettiva che in qualche modo raccoglie una serie di artisti di chiara fama nazionale ed internazionale che hanno avuto la propria origine proprio qui nel Terramano, che sono fortemente legati a questo spazio espositivo dell'Arca e che quindi in qualche modo nonostante l'affermazione non hanno dimenticato quelle che erano le proprie origini e oggi appunto con un atto di amore per il nostro territorio tornano a casa e noi siamo ben lieti di poterli accogliere e poter far visitare alla comunità terramana queste straordinarie e meravigliose opere.